Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video mattutino del Gobbo Toscano ancora un po' imballato dalla sveglia, dalla sveglia abbiamo appena fatto volazione e adesso registriamo subito questo importante video come sempre intanto vi chiedo cortesemente di mettere like, iscrivervi al canale, condividere e commentare a fine video aspettate a scrivere, guardatelo tutto e poi commentate perché solitamente la fine del video è quello che vi svela proprio le cose come stanno realmente allora parliamo un po' di calcio mercato Juventus allora visto che Pellegrini è praticamente a un passo dalla Lazio con prestito più obbligo di riscatto dovrebbe essere fissato intorno ai 10 milioni io spero più vicino ai 10 e più vicino agli 8 perché direi che la Juventus è giusto che si faccia intendere come lo sta facendo con il Chelsea per Vlaovic si deve far intendere anche con la Lazio per Pellegrini ecco detto questo Sarri ha buttato gli occhi su un altro giocatore rientrato da poco alla Juventus che è Niccolò Rovella bene Rovella tutti i giornali dicono Rovella che piace molto ad Allegri allora il che piace molto ad Allegri visto che era un giocatore già formato se piaceva così tanto ad Allegri sarebbe rimasto anche la stagione scorsa visto il troiaio di centrocampisti che ci si aveva però Allegri volle puntare su un Paredes che poi praticamente l'ha fatto giocare 5 partite per dire 5 partite comunque l'ha fatto giocare molto poco quindi sai potrebbe darsi anche una persona rinzavisca nell'arco di un anno e dire ma non mi sono stato bischero quest'anno cerchiamo di tenerlo non credo però che le cose stiano così io credo più che Allegri stia pensando assolutamente a cederlo viste anche le parole al miele verso Paul Pogba di ieri dopo la partita in cui Massimiliano Allegri dice eh Pogba fra un mesetto dovremmo averlo almeno in panchina ora a me sta roba di avere un giocatore forse almeno in panchina fra un mese poi da una volta in panchina c'è un altro problema eh allora fra due mesi forse lo avremo per giocare i primi due minuti scusatemi ma non ci sto più quindi Pogba gentilmente puoi avviarti verso la finestra di uscita o la porta di uscita dai la porta che è la finestra non vorrei che tu ti facessi male perché comunque non ce l'ho con Pogba anche se la gestione dell'anno scorso di infortunio è stata pessima ma lasciamo perdere ormai acqua passata pensiamo al presente e al futuro non facciamo quelli che rimuginano sulle cose successe ma tu tre anni fa hai detto fermi allora Rovella secondo me allegri intenzionato a cederlo e vi dico dopo la dichiarazione di ieri ho sempre di più la brutta 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 purtroppo ahimè sensazione che Pogba o veramente va via a fine calcio mercato o non va via ma non lo so ragazzi non lo so vedo cose strane alla Juventus in questo momento e quindi non sono più così certo vedete anch'io posso cambiare idea non sono un mulo anch'io posso cambiare idea e quindi Sarri vorrebbe Rovella allegri a mio parere dirà ok sta solo alla Juventus che possa stabilire un prezzo ecco se ora andiamo a vedere Rovella vi faccio un esempio no Rovella su Transfermarkt vediamo 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 madonna Rovella ma che Rovella Lazio eh Dio Cribbio Rovella 18 milioni di euro ecco io spero che meno 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 di 25 milioni la Juventus non glielo dia comunque un giocatore del 2001 quest'anno farà venti due anni il 4 dicembre quindi è quasi un 2002 non è così così vecchio anzi anzi io io me lo terrei stretto e se lo dovessi vendere a questo punto ahimè però lo farei pagare tanto non credo che la Lazio spenda tale cifra dopo prendere anche Pellegrini però queste voci di uscita mi fanno pensare che la Juventus fa capire ai media che anche se l'offerta non fosse vera della Lazio la richiesta non fosse fosse solo una fake o un rumor inesistente se la Juventus cominciasse a dire ah noi sotto i 25 milioni non lo vendiamo le altre squadre dicono ah ci vuole 25 milioni per Rovella vengo chi è interessato prende e va e quindi come abbiamo detto nessuno è incedibile tutti sono praticamente sul mercato ovviamente ai prezzi decisi dalla Juventus però non lo so non lo so secondo me non rientra neanche quest'anno Rovella nei Piani di Allegri a differenza di quello che tutti stavano riportando nelle ultime ore negli ultimi giorni perché Rovella è rientrato non perché l'ha voluto Allegri è rientrato perché è semplicemente finito un prestito è che l'anno scorso è andato via perché Allegri non l'ha visto non lo voleva non lo vedeva e quindi quello mi rimane a me di punto interrogativo è come il Pogba il Pogba è stato cercato è voluto da Allegri Paredes di Maria abbiamo visto che fine hanno fatto Paredes e di Maria e stiamo vedendo che fine sta facendo Pogba ripeto tutti possiamo cambiare quindi anche Max può cambiare anche Max in una stagione certo in cui ci sarà solo una competizione gioiremo solo una volta alla settimana potremmo farcela anche senza top player in entrata ma se cominciamo a vendere o a svendere anche i vari Rovella quindi i giovani che hanno un ingaggio sicuramente più basso di tanti altri bahucchi che ci sanno il rosa io direi si fa una grandissima stronzata comunque stiamo a vedere quello che succederà altre voci di mercato si parla sempre di Zaccaria Zaccaria in uscita ma la cifra è di 20 milioni io non riesco a capire che una settimana che si dice e viene scritto ogni giorno che Zaccaria è a un passo manca solo i dettagli ma no io vorrei aprire questi dettagli quali sono qualcuno mi dovrebbe rispondere quali sono questi dettagli da allimare quali sono cioè ce la facciamo o non ce la facciamo siamo il 10 di agosto manca tre settimane alla fine di calcio mercato in entrata noi siamo qui con UEA l'altro giovane difensore dell'Uruguay e chi e chi ragazzi io non lo so vediamo di dasso una mossa perché per carità ovvio fiducia a Giuntoli ma Giuntoli verrà fatto lavorare come può come vuole o gli verranno imposte certe cose come veniva fatto nelle dirigenze precedenti dal buon John Elkan non lo so non lo so ragazzi io spero solo di vedere una grande squadra che stanno anche se ahimè ripeto io l'ho ripetuto ieri nella live con i ragazzi nel pomeriggio con Kinoshi con Nicola con Dr. Juve con Drugo con Beppe Bianconero che secondo me ad oggi se si ferma oggi il mercato e rimane la squadra così lottiamo per la zona champions perché si è vero che a livello di nomi siamo molto più forti di altre squadre tipo davanti Chiesa Vlaovic poi Pogba Bremer però bisogna vedere come giocano perché se Vlaovic è Vlaovic dell'anno scorso mani nei pelli se Pogba è quello dell'anno scorso buona notte è secchio quindi stiamo a vedere quello che succederà speriamo bene in tutto comunque sempre e solo forza Juve fino alla fine ragazzi iscrivetevi al canale lasciate un like e ditemi cosa ne pensate di questa trattativa possibile trattativa tra Lazio e Juventus per la cessione proprio di Nicola Rovella fatemi sapere quello che ne pensate ciao a tutti e ci vediamo oggi in live